Continuiamo a lavorare sul congetto parentale, quindi oggi noi abbiamo i 5 mesi di congetto di maternità retribuiti al 100%, lo scorso anno abbiamo aggiunto un mese di congetto parentale utilizzabile dalla madre o dal padre entro i 6 anni di vita del bambino retribuito all'80%, con questa legge di bilancio aggiungiamo un ulteriore mese utilizzabile fino a 6 anni di vita del bambino utilizzabile dalla madre o dal padre retribuito al 60% e poi rimangono gli 8 mesi retribuiti al 30% che sono già in vigore per legge, quindi facciamo un ulteriore passo sul congetto parentale. Aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido, il nostro obiettivo è dire che al secondo figlio l'asilo nido è gratis, questo è come vogliamo spendere, le risorse sono circa 150-180 milioni di euro che rafforzano il fondo sugli asili nido, ma la misura più significativa secondo me di questo miliardo di euro riguarda il tema della decontribuzione delle madri, cioè noi prevediamo che le madri con due figli o più non paghino i contributi a carico del lavoratore, voi sapete che i contributi previdenziali vengono pagati un terzo dal lavoratore e due terzi dal datore di lavoro, la quota del lavoratore per le madri che hanno due o tre figli la paga lo Stato, ovviamente con dei limiti, il limite è per le madri con due figli fino a quando il secondo figlio, cioè il più piccolo, ha 10 anni, per le madri con tre o più figli fino a quando il figlio più piccolo ha 18 anni. Il concetto che noi vogliamo stabilire è una donna che mette al mondo almeno due figli in una realtà nella quale noi abbiamo disperato bisogno di invertire i dati sulla demografia ha già offerto un importante contributo alla società.